Settimana numero 3, giornata numero 3 per la Gold League in campo tornano i Blue Legends dopo il rinvio della giornata numero 2 contro gli Ultras del Boca Ora affrontano i Colcioneros Colcioneros che si trovano a 0 punti in classifica dopo le sconfitte Alla prima uscita contro il Chelsea in una partita clamorosamente sfortunata 4 a 1 risultato finale Mentre poi hanno perso anche contro il Setiff in una partita però in rimonta addirittura I Blue Legends arrivano dopo la vittoria alla prima giornata per 7 a 1 contro i Canisciotti Dopodiché il rinvio della seconda partita e oggi queste due squadre si trovano l'una di fronte all'altro 0 punti per i Colcioneros dopo due partite 3 punti invece dopo solo una partita per i Blue Legends che si schierano con Matteo Liccardo tra i pali tra i pali Beppe Vigni a dispensa a destra Raffaele Vigni a sinistra Castellano e Cesare Esposito a centrocampo C'è Luca De Vivo in attacco e Riberi Pascarello qui fuori Pucca per i Colcioneros tra i pali che cambiano per la terza volta il portiere Al centro Deboli, Rivelli a sinistra, a destra Rigotti, Rininger e Di Napoli in attacco Quest'oggi giocherà Rivelli Se non sbaglio Paolo, sono due ovviamente i Rivelli Tanto colpo di testa Fallone in verticale, fallo di Vigni Rivelli e Deboli Su questo pallone va a sinistro di Rivelli Calcio d'angolo Provano i Colcioneros Vediamo un po' Rininger sul pallone Occhio dentro Va Rininger Forte in mezzo di Spensa Ancora in rimessa laterale Ancora Rivelli Dentro Rininger Spizza Di Napoli Palleggia Fondo Porta il pallone di Spensa Poi Raffaele Vigna Palla per Esposito Va di sterno Carica il destro Fuori Palleggia Riberi Qui fuori Scalpita Tocca a lui E allora possesso per Rivelli Poi Deboli Va da Rininger Rigotti Per Di Napoli Sbuca Beppe Vigna Grande doppietta La prima partita per lui Contro i cani sciolti Riccardo Dispensa Pallone di là da Vigna Giro palla per I Blue Legends Un mix tra Sky Blues e Gunners Anzi scusate Ertavernello I due Vigna Uniti alla squadra Di Cesare Esposito Qua va Vigna Parte il rinvio di Pucca Sulla rete Palla per Esposito Che calcia Fuori E allora la classifica di Gold In questo momento Vede il Seti Fa punteggio pieno Con nove punti Segue Proprio L'Hamburgo Che ieri ha perso Lo scontro diretto Cinque reti a quattro Rimane a sei punti Blue Legends Chelsea Cani sciolti a tre A zero punti Ci sono i Black Ambers E a tre punti Sono arrivati anche Gli Ultras del Boca Proprio contro i Cani sciolti Che sono rimasti A tre punti Occhio a Deboli Seguire questo match Ci sarà Proprio il match Tra Chelsea Attuazione Deboli Prova col destro Raso terra Chelsea Black Ambers Chiuderà Questa domenica Sportiva Molto breve Di questo pomeriggio Dato che il Napoli Giocherà alle 8.45 Contro l'Inter Va Deboli Prova in porta Ci ha provato Esposito An anticipare Pucca Non è riuscito Rivelli Parte lui A sinistra Pallone che non esce Rimane in zona Di Napoli Fallo Va col destro Deviazione Palla fuori Calcio d'angolo Palla dentro Sul primo Raffaele Vigna Colpo di testa Riccardo Non la trova più Poi la incolla Sempre zero a zero Tra Blue Legends E Colcioneros Dopo due sconfitte Proveranno sicuramente A reagire Ragazzi Maglia nera Doppia la rabbia Di questi primi due incontri Una Con sfortuna L'altra Occhio al sinistro Di Gianluca Rivelli Palla in rete 1 a 0 De Vivo Calcia Pucca Occhio a Ribery Va col doppio passo Vediamo un po' Se si accende C'è fallo Va Ribery Su questa punizione Prova col destro Deviato Pucca Rininger Mette un po' d'ordine Lì in mezzo Deboli Grande spunto Personale Avanza lui Cerca di punta Riccardo Dalla bandierina Deboli Palla dentro Sul primo Rivelli Fondo Va deviato a lui Va subito Vigna Per Pascarello Doppio passo Su Rigotti Va Ribery Chiuso da Deboli Rimessa Ribery Palla dentro De Vivo Chiuso Dispensa Cerca il pallone Alto Deboli di testa Svetta Sinistro Fuori Buono lo sputo Di Di Napoli Calcia fuori Prova Rivelli Entra in aria Sinistro Riccardo Palo E poi Dispensa Prova ad allungarsi Rininger dentro Serie di rimpalli Vediamo un po' Dei Blue Legends Dispensa Vigna Avanza lui Sbatte sul Rininger Rimessa ancora Per i Blue Legends Con Beppe Vigna Vediamo a chi serve Sale Dispensa Vi rincontro De Vivo Di petto Per Beppe Vigna Ancora per De Vivo Il tocco di ritorno Errato Di Napoli Va Poi recuperato Il pallone Esposito Castellano L'appoggia male C'è sempre Dispensa In zona Ancora Dispensa Allarga De Vivo Occhio alla Bomba Va De Vivo Palla dentro Salta Deboli Poi spara via Pasquale Rivelli Occhio al sinistro Anzi al destro Di Esposito Murato Riberi Grande spunto Ancora lui Allarga Dispensa Prova Angelo Dispensa Che ieri Ha lasciato lo Zema All'Andia Affidandolo A giocatoracci Sono stati sconfitti Per la seconda volta Deboli rinvia Alto Vigna Sale Prova Sul fondo Riberi Grande recupero Di Pasquale Rivelli Rininger 1-2 Spara Dispensa Palla che sbuca Dalle parti di Rigotti Palla dentro De Vivo Prova una sponda Occhio A Vigna Ancora De Vivo Riberi Mette giù Saltateboli Destro Pucca Occhio al calciotangolo battuto Ma cosa ha preso Pucca in precedenza Riccardo Parte il lancio Salta Debole Altissimo Di Napoli Rininger Muove il pallone Ancora per Debole Si muove Rigotti Anzi scusate Era Rivelli In aria Non servito Provato la conclusione Qui Debole Prova a regolare il pallone Tocco verso Rininger Ha un po' di spazio Cerca il destro Un po' debole Comunque era spinto Ancora di Napoli Sembra lui Quello più in giornata Qui De Vivo Sbatte contro l'aniga Mamma mia Aspetta perché c'è De Vivo in aria Poi c'è il lancio per Rivelli Vigna su di lui Prova a passare ugualmente Pasquale Rivelli Vigna Mette fuori Di Napoli Prova dentro Riccardo di Suola Per dispensa Parte il lancio Nel vuoto Ci prova Dalla distanza esposita Ma la cosa più grave Non te la dico Vediamo Castellano Con le mani Al volo Riberi Sposito Grande intervento di Rivelli Molto deciso Sempre una zero Averi Colcio Nero Spalla dentro Per De Vivo Aggancia De Boli Sale lui Mette il piede Vigna Poi De Boli Punta ancora Riberi Lo salta Destro secco Riccardo Sposito lungo linea Castellano Rivelli Vigna Poi ancora Raffaele Vigna Servito da Riccardo Vediamo Castellano Perde la sfera Contro Runninger Di Napoli Gioca bene La formazione Colcio Nero Che accorcia Bene il campo Va a lancio Qui De Boli E termina Così il primo tempo 1-0 Colcio Nero Riberi Sul fondo Comincia la ripresa Colcio Nero 1 2 Legends 0 Dopo un primo tempo Dove le squadre Siano studiate parecchio Vediamo se nella ripresa Ci saranno Più gol Fino ad ora Comanda Riccardo Che provano a salire A tre punti In classifica Dopo Due partite A secco I punti Occhio al crepuscolo Anzi al tramonto A questo punto Minosità Un po' bassa Vediamo Dispensa Gioca il pallone Di là Da Liccardo A larga Esposito Giocano I Blue Legends Palla a terra Anticipato De Vivo Raninger Sbaglia A lancio Dispensa Cercato Vigna Castellano Vigna Liccardo Liccardo Perriberi Spostato Oggi Terzo di sinistra Non è proprio Il suo ruolo Però Vediamo un po' Esposito Viaggia Destro Arrivate Vivo Caccio D'angolo Ci sono i cambi Dentro Vigna Peppe Vediamo chi esce Scende vivo Va Castellano Palla dentro Riberi Attende il pallone Però Perde l'attimo Di Napoli Due contro due Arriva anche Vigna Palo Dispensa Vigna Parte il lancio Verso Castellano Vediamo Dispensa Vigna Sbaglia Il controllo E allora Rivelli Lancia subito Di Napoli Altissimo Raffaele Vigna Poi c'è un rimpallo Tocco col braccio Castellano Rininger Chiude Vigna Per Castellano Muove il pallone Sbatte contro Pascarello Però Rigotti Mette fuori Poi Rininger Deposizione Ci fallo Vediamo un po' Beppe Vigna Tocco Per Esposito Non schema Che però Riesce male Dispensa Beppe Vigna Di Napoli Mette fuori Vigna Pasquale Rivelli Con le mani Vediamo un po' Palla al fratello Eh la rimessa è troppo corta Castellano Non trova il compagno Vigna Doppio passo Per della sfera Accorcia bene Deboli Pasquale Rivelli Sul pallone Poi di Napoli Alza un campanile Sempre 1-0 Riberi Si accentra Gran recupero Di Rininger Prova Sposito Per Dispensa Punizione Per i Blue Legends Vuole tirare Beppe Vigna E segna Sempre lui Terzo gol In due partite Pareggia il risultato Beppe Vigna Dai numeri Prova in porta Murato Poi di Napoli Il tocco subito Per Pasquale Rivelli L'1-2 Complicato Raffaele Vigna Batte anche Sposito Ora 1-1 Il risultato Allora va Rigotti Deboli Salta Sposito Deboli Calcia Debo lì dentro Subito Vigna A chiudere Poi esposi Anzi Riberi Se ne va Gran numero Poi i rigotti Scivolata Gran recupero Anche per lui Partita che ora Sale di intensità E di ritmo Si va con Dispensa Occhio che rischia Tocca a Liccardo Spara via Grande invenzione qua E allora Vigna lascia a Liccardo Poi Raffaele Salta Di Napoli Allarga Dispensa Occhio Dispensa Sinistro Pucca Allontana Rivelli Vigna Sale Pasqui Rivelli Copertura Poi Numero di Dispensa Di là Vigna per Pascarello Avanza Riberi Con una finta Deboli su di lui Dispensa Per Beppe Vigna Cesare 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 C'è solo Esposito Preferito Liccardo Sbaglia E allora Rininger Sbaglia Il tocco Anche lui Raffaele Vigna Ancora Rininger Apre Esposito A Dispensa Sale Un po' Dei vivo Uno due Di Maria Dispensa Sul fondo Anzi no Caccio d'angolo Esposito Raffaele Vigna Ancora per Esposito Tocco ancora per Vigna Fondo Munizione in due Allora Perché Si è chiamato Il lascia Il giocatore Di Colcio Nero Caccia Di vivo E allora Vigna Liberi Uno due Pallone che esce C'è fallo Su Rivelli E allora Punizione Deboli Destro Rete Su deviazione Esplodo Re Colcio Nero Vigna Per Dispensa Ora Nuovo vantaggio Colcio Nero Squi Beppe Vigna Recupera Recuperano i Rivelli Si va con Gianluca Rivelli Sul Liccardo Che spara lungo Cercando Dei vivo Altissimo Rigotti Vigna Carica il destro Che fallo di mano Tocco col braccio Detto dal direttore di gara Allora va Riberi Col sinistro Lui che è ambidestro Prova Rivelli ha salvato tutto Calcio d'angolo Vigna Forte in mezzo Riberi Finta Resiste Destro anche lui Murato da Rivelli Deboli con lo spunto Poi però esagera Spallone che comunque finisce a Rininger Poggio a Puka Finta Bah Sbaglia tutto Ed è vivo Cestina al pareggio Deboli Spensa mette fuori Va con le mani Proprio deboli Liccardo Dispensa Vigna Apre Sposito Vigna Vento di Di Napoli Va Beppe Vigna Su questa rimessa Con le mani Uno o due Con Riberi Ai 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 Occhio a Di Napoli Resiste Alla carica Di Riberi Scontro con Vigna Poi Riberi Qualche modo Di Napoli Vediamo un po' di chi è la rimessa Ultimo tocco e D di Napoli Palla a Liccardo Deboli Lancio lunghissimo Sbaglia Castellano Attenzione E allora va Rigotti Di Napoli Va con il destro Rigotti Mette in mezzo Però non si vede nulla Con questo sole Alle mie spalle Vediamo un po' Liccardo 2 a 1 Colcioneros Passano i minuti Riberi Lancio lunghissimo Pescato De Vivo Grande aggancio Palla altissima Pucca Castellano Gioca il pallone A De Vivo Sale Deboli Ancora Castellano L'appoggio Rigotti Nuova palla Poi di Napoli Esagera un po' Passa Castellano La palla non esce Deboli L'accompagna All'uscita E allora Vigna Tocco per Riberi Ancora lui Mette fuori Ranninger Rimessa Blue Legends Castellano Forte in mezzo Rivelli Salta Dispensa Si coordina Pensa anche al tiro Poi l'appoggio Verso Esposito Va Cesare Esposito Scivolata Ranninger Ultimo tocco Di Esposito Rivelli Per Di Napoli Buono lo spunto Prova a resistere Sono in tre Su di lui Commetto lo fan Parte di Napoli Tutto fermo Anzi no è punizione Pascarello Buono lo spunto Dispensa Castellano Vigna Andiamo un po' Pallone che non esce Rivelli La tiene in campo Sinistro Scelicardo Blocca il pallone Pallone per Ribery Lancio Saltate vivo Puc Altissimo Poi Rigotti Palla per Esposito Alza la testa Cerca un compagno Serve Ribery Va Pascarello Si accentra Rivelli De via Rimessa Al volo Ribery E' Esposito De vivo Esposito Rigotti In una palla Poi c'è anche Di Napoli Ok Manintesi Rigotti va Rigotti Destro Deviazione Di Napoli Raccoglie Palleggio Ci mette due ore Poi La trova Non ci credo Esposito Salva tutto Che occasione Vigna Rischia Poi resiste Ci fanno Prova Pascarello Calcia Deviazione Finisce così I Colcioneros Vincono la prima partita Alla giornata Numero 3 E salgono a 3 punti Battendo i Blue Legends Siamo qui con Rigotti Grande vittoria Di Colcioneros Che finalmente Hanno vinto la prima partita Siete arrivati a vincere La giornata numero 3 Cos'è mancato Per attendere la terza giornata Per arrivare ai 3 punti Diciamo che le prime partite È mancato un po' di equilibrio Ci eravamo troppo Troppo offensivi Invece Questa partita Abbiamo Siamo avvenzati Con Cattiveria Sapendo che queste Sono le squadre migliori Che erano candidati A tirare il girone Siamo andati Giustati a Cattiveria Un aggiustamento tattico L'avete fatto Inizio il partito Pasquale Rivelli A punta Poi Di Nardo Quando lui A fare Diciamo la mezza punta Senti Gli avversari Hanno molto forti Tecnicamente E voi Dopo quei due passi fa Avete battuto Una delle squadre Più forti Siete solamente A tre punti Tre partite I playoff Non sono lontani Ovviamente Ne passano cinque Te la senti Di fare un pronostico Ora che siamo arrivati Alla giornata numero 3 Credo che Con la compatienza Che abbiamo Che abbiamo ora Possiamo lottare Anche Per le prime posizioni E va bene Allora facciamo Complimenti a Rigotto E in bocca al lupo A questi colcianerosi